Una zona recintata da una rete verde, fango e un escavatore. Questo è il campo 16 del cimitero dell'Ulivo di Fano, dove dal mese di novembre si stanno effettuando le esumazioni delle salme per ottenere maggiori spazi attualmente mancanti in città. Ma se nell'80% dei casi la salme è mineralizzata e quindi i resti possono già essere inseriti in un'urna separata, nell'altro 20% le salme dovranno essere cremate o rissepolte nel campo degli indecomposti. Questi lavori però stanno suscitando le proteste di alcuni parenti dei defunti, che la definiscono una situazione inaccettabile e priva di sensibilità, oltre al fatto che per i cittadini questo intervento comporta un'ulteriore spesa economica. È richiesto infatti un pagamento di qualche centinaia di euro per l'esumazione e di circa 800 se si decide poi per la cremazione. E come ci ha segnalato una signora, il preavviso ai familiari è avvenuto solo pochi giorni prima e in alcuni casi anche solo il giorno precedente. Questa mattina invece nessuno se l'è sentita di parlare, ma un testimone, che ha preferito non essere ripreso, ci ha raccontato che i malumori nascono non solo per il modo con cui viene eseguito l'intervento, ma anche perché i tecnici dei servizi cimiteriali hanno deciso di procedere con le salme seppellite più di recente. I parenti infatti non riescono a capire perché abbiano scelto di procedere in questo campo, dove le sepolture vanno dalla fine del 1999 al 2003 e non negli altri, dove invece ci sono decine di tombe e di defunti sepolti già dal 95. Si chiedono anche come siano state effettuate le verifiche, infatti hanno dubbi per la decomposizione delle salme al campo 16, visto che si trova in un'area più a sud e quindi più esposta all'acqua di scorrimento che si accumula proprio in quella zona. D'altra parte l'amministrazione comunale di Fano precisa che le esumazioni avvengono nel totale rispetto della normativa esistente e che dopo dieci anni di sepoltura è già possibile procedere a quelle situate nel campo 16, che sono lì da circa 17 anni. È chiaro, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, che stiamo sanando una situazione dovuta ad una mancata programmazione da diversi anni degli interventi nei cimiteri comunali. Per questo oggi ci siamo ritrovati a non avere più spazi sufficienti a garantire la sepoltura dei defunti, che sono circa 500 all'anno nel comune di Fano. Al cimitero dell'Ulivo l'ufficio tecnico sistemerà l'area dove avverranno le nuove inumazioni e nel prossimo inverno verrà ampliato il cimitero di Rosciano dove sarà costruito un nuovo padiglione e oltre ai loculi saranno previste 66 urne cinerarie in funzione del nuovo impianto di cremazione in fase di costruzione.